Un migrante in bicicletta con una nutria morta agganciata al portapacchi. L'avvistamento lungo la strada provinciale tra Arre e Agna ha sollevato non poche polemiche. Già qualche tempo fa uno straniero in bici era stato notato nella zona dei Colli Ugani e immortalato mentre trasportava un cinghiale privo di vita. Ora questo nuovo episodio che ha fatto rizzare i capelli a molti residenti di quest'area della bassa padovana, a pochi chilometri da due grandi hub di migranti. Spero non se la siano mangiata perché sarebbe pericoloso per la salute, ha subito dichiarato il sindaco di Agna Gianluca Piva, che proprio nelle scorse ore è stato ricevuto dal prefetto di Padova per spiegare la situazione critica del suo comune, che si trova a metà strada tra Bagnoli e Cona. Il primo cittadino ha chiesto la chiusura delle due strutture di accoglienza. Nei prossimi giorni in prefettura è atteso anche il sindaco di Bagnoli Roberto Milan.